Muore nell'incendio della sua casa di Candide. A costare la vita Maria Doriguzzi, 81enne comeliana, potrebbe essere stata l'intossicazione causata dal fumo. All'origine del rogo sviluppatosi in cucina potrebbe essere stato un malfunzionamento della canna fumaria. L'allarme è scattato la domenica mattina, poco dopo le 11, su chiamata dei vicini di casa. I vigili del fuoco si sono portati in piazza Monsignor Giuseppe de Cassan, dove hanno trovato l'antico palazzo in cui viveva la signora con il portone aperto. Infatti, sapendo che c'era una persona in pericolo, qualcuno aveva tentato il recupero, desistendo subito. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e sono riusciti ad entrare, trovando il corpo senza vita di Maria Doriguzzi. Sul fatto indagano i carabinieri. L'incendio è arrivato in un weekend a regio già difficile dal maltempo e dall'allerta per criticità idrogeologica, con la chiusura del pordoi per collate di ghiaie sull'asfalto, la prensione cortinese per i bigontina, gonfio d'acqua e detriti e molti interventi minori.